La donazione e quindi il numero di trapianti a Verona è aumentato negli ultimi tre anni in modo particolare perché si sono messe in atto delle nuove strategie che grazie anche a tecnologie avanzate ci hanno permesso di poter ampliare la nostra possibilità, questo potenziale donazione, anche attraverso altri percorsi e quindi coinvolgendo tutta l'azienda e sensibilizzando in modo particolare in questo ambito siamo riusciti a realizzare molti più donatori di quelli che abbiamo potuto fare negli scorsi anni. Per quanto riguarda il coordinamento prelievi e organi, storicamente ci sono sempre state due infermiere, da luglio di quest'anno abbiamo implementato una terza presenza infermieristica perché l'attività lo richiedeva sia in termini numerici ma anche di competenze. Abbiamo scelto persone che sono particolarmente motivate, hanno una particolare attitudine per questo settore e quindi riescono a portare avanti del lavoro molto importante quasi in autonomia sulla parte di donazione dei tessuti e poi collaborano nel coordinamento e nell'allocazione dei vari organi a tutto tondo insieme con la dottoressa Casartelli e quindi con tutta l'organizzazione e il network che abbiamo ospedaliero. Per quanto riguarda invece le sale operatorie, anche qui abbiamo raggiunto un ottimo risultato perché da settembre di quest'anno siamo riusciti, grazie allo sforzo di tutti, sforzo organizzativo, sforzo formativo, sforzo da parte dei coordinatori nel gestire anche personale e sforzo da parte del personale stesso nella formazione, abbiamo creato un doppio canale delle urgenze, vale a dire che sul settore del polispecialistico riusciamo a garantire in contemporanea sia una sala di urgenza sia una sala trapiantologica che quando serve è trapiantologica, quando non serve la possiamo utilizzare su una seconda urgenza. Questo ci permette di avere più sale a disposizione e anche ridurre un po' i costi.